Grande successo di partecipanti e di appassionati per la 26esima Coppa Città di Partanna, gara organizzata dallo Sporting Club Partanna. La manifestazione belicina su Tremanche era valida per la Coppa AC Sport quinta zona e per il campionato siciliano seconda zona. La gara si è svolta sul solito tracciato tortuoso e tecnico di 2.990 metri, ricavato sulla strada provinciale 26 tra Sala Paruta e Partanna, su cui sono state collocate 14 barriere di rallentamento. 11 le scuderie presenti. Attraverso le foto di Manuel Marino, ecco i risultati dei tanti piloti di sciacca presenti al via. Antonino Di Matteo, su Formula Gloria C8F, motorizzata Suzuki, si è piazzato al quinto posto assoluto. La monoposto, curata dal reparto Corse Castiglione Motorsport e da Vincenzo Noto, ha portato a casa anche la prima posizione di classe e la terza di gruppo monoposto. Angelo Cucchiara, su Formula Arcobaleno motorizzata Yamaha, ha ottenuto la diciassettesima posizione assoluta in classifica generale, quinta di gruppo e la quarta posizione di classe. Salvatore Catanzaro, su Formula Predators, ha ottenuto invece la ventesima posizione assoluta. È stata una prova sfortunata quella di Catanzaro, perché su tre mance non è riuscito a completarne una senza penalità, a causa dell'abbattimento dei birilli. Per Catanzaro anche la quinta posizione di classe. Stefano Sutera, su Barbone 001 motorizzata Suzuki Sport prototipo, curata e seguita dalla Sant'Angelo Motorsport, ha ottenuto invece la sedicesima posizione assoluta e la quarta posizione di gruppo. Buona prestazione anche per il giovane Alberto Macaluso, sul Radical Pro Sport curata dal team Caruso, che ha portato a casa la decima posizione assoluta, in gara sfortunato a causa dell'abbattimento di alcuni birilli, cosa che non gli ha permesso di svolgere un'ottima gara. Per Macaluso comunque anche la terza posizione di classe è la seconda tra gli under 23. Tra le bicilindriche, Pierluigi Bono, su Fiat 500, curata dalla Coppola Motori, ha portato a casa la prima posizione di gruppo e anche quella di classe. Per Gaspera e Gennaro, su Fiat 500, curata dal padre, ha portato a casa invece la terza posizione di gruppo VBC e la seconda di classe. Tony Russo, su Fiat 500, si è piazzato nella seconda posizione di gruppo VBC e nella prima di classe. Tra le Racing Start, Lorenzo Bonavires, su Renault Clio, curata dalla Patacco Corse, ha portato a casa la prima posizione di classe e la quinta posizione di gruppo. Tra le Racing Start Plus, Massissimo Curreri, su Peugeot 106, curato dal team Oliveri Motori, ha portato a casa la seconda posizione di classe e la terza di gruppo. A seguire Giovanni Muscarnera, su Renault Clio, che si è piazzato invece nella prima posizione di classe e nella seconda di gruppo. Tra le vetture gruppo N, Marco Segreto, su Peugeot 106 1.4 di cilindrata, curata dalla Patacco Corse, si è piazzato nella prima posizione di classe e nella terza di gruppo, distaccandosi di soli due secondi e trentacentesimi dalla prima vettura di gruppo N, di cilindrata 2.000. A seguire il giovane Puleo, su Peugeot 106, curata dalla Biondo Racing e Cacciatore Corse, che ha portato a casa invece la ottava posizione di gruppo e la seconda di classe. Tra le vetture attività di base, tra le donne, Vanessa Muscarnera, su Renault Clio Williams, che si è piazzata nella prima posizione di classe e nella quarta assoluta tra le attività di base. E in fase di organizzazione, infine, il sesto autoslalom Sciacca Terme, Kermesse Automobilistica tra i birilli inserita nel calendario stagionale promosso da C-Sport. La competizione si svolgerà il prossimo 16 giugno.